Io darei subito la parola a Giuseppe Corasaniti che prima ho presentato come uno dei magistrati più attenti da lungo tempo su queste tematiche e ribadisco naturalmente. Ecco abbiamo già degli elementi che stanno emergendo Corasaniti, dati come grande il dorado da cui trarre molti benefici economici a volte anche in modo indebito, però non voglio forzare la mano, quindi le darei subito la parola per ascoltare il suo punto di vista, grazie. Devo dire la riflessione che il professor Pezzetti prima faceva sul quarto emendamento americano che specifica il concetto di tutela costituzionale poi del domicilio è molto importante perché questo è proprio il principale problema che almeno nei rapporti con la magistratura italiana si è potuto registrare e vi è stata una tendenza in passato a costituire grandi basi dati giudiziari o anche a credere che si potesse acquisire da qualunque operatore informatico o di telecomunicazioni basi dati estremamente consistenti per poi effettuare separatamente la ricerca che serve. L'investigatore spesso, parlo poi dell'investigatore magistrato perché l'investigatore delle forze di polizia in questi anni ha mantenuto e anzi ha ampliato la propria sfera di specializzazione ma se debbo, spero non ci siano molti parlamentari da un lato però spero che è esemplare questo criterio. Ho letto con attenzione una proposta di legge poi diventata legge in pochi mesi all'unanimità avente ad oggetto rafforzamento delle misure la legge 1212 in materia di contrasto alla criminalità informatica. Evidentemente sollecito gli autori di quella proposta poi diventata legge a studiarsi qualcosina in materia di criminalità informatica perché limitare come ha fatto il nostro legislatore che evidentemente non segue con grande attenzione queste tematiche che sono quelle di cui stiamo discorrendo adesso. Limitare questo fenomeno che è molto importante al solo sequestro dei computer perché è una legge diventata legge 1212. Relatore Casson, legge è entrata in vigore? Significa avere un'idea così abbastanza approssimativa innanzitutto perché è un fenomeno assolutamente marginale. Oggi con la moderna forensic del computer si sequestra la memoria perché si acquisisce lì la prova digitale. Forse è stata una legge in buona fede per, immaginare, dare una mano alle forze di Polizia in un momento di crisi. Però con il contrasto alla criminalità informativa non c'entra nulla. Quindi il nostro legislatore deve comunque cominciare ad avere le idee chiare su quello che sono i termini perlomeno dei titoli di legge. Ogni tanto poi c'è un'iniziativa legislativa a 360 gradi, 365 perché considero i giorni dell'anno. Volta a regolamentare internet e qui bisogna mettersi d'accordo perché internet non è un luogo, un territorio. Oltretutto queste iniziative legislative fermano in Italia ma non sono così frequenti negli altri paesi. Perché? Perché internet si regolamenta attraverso un costante sforzo e un confronto internazionale che ha anche delle basi regolamentari. Vi informo che c'è, mi rivolgo a giuristi, beh giuristi lo sanno già ma insomma meglio essere più chiari, c'è una convenzione internazionale sulla criminalità informatica del 2001 che è nata su un intenso sforzo portato avanti anche dalla Germania e da giuristi di tutta Europa che in sede di Consiglio d'Europa hanno definito una lista di reati informatici, un minimo comune denominatore dove hanno avviato un'intensissima cooperazione internazionale e hanno posto le basi per una regolamentazione trasnazionale come avviene già con la navigazione aerea e quella sul mare per arrivare a una disciplina comune in sede internazionale. Ecco questo è il percorso che andrebbe seguito perché vedete dal punto di vista giuridico è abbastanza difficile, già il rapporto fra informatica e diritto non è mai stato eccezionale nel nostro paese. Ma l'avere posto in essere numerose iniziative alcune delle quali meritorie sicuramente siamo il primo paese che ha adottato delle norme molto precise sulla pornopedofilia ma quando si è trattato poi di definire meglio gli strumenti lì sono cominciati problemi perché ci si è resi conto che il territorio di internet non riguardava solo l'Italia e quindi ogni norma doveva fare i conti con un'applicazione estremamente controversa. E allora definire quali sono le attività da regolamentare non è poi un terreno che riguardi solo gli informatici, riguarda le banche, le imprese che operano nel settore del money transfer. Fra l'altro Google, apro e chiudo una piccola parentesi, ha annunciato che a breve avvierà insieme a Google Mail un servizio di questo genere. Ebay, Paypal, tutte aziende che insieme alla miriade dei social network già costituiscono il cosiddetto web 2 e stiamo già andando verso il web 3 il problema è che le nostre istituzioni stanno a meno 4. Ogni tanto hanno un elemento di dubbio su come regolamentare internet ovviamente in funzione interessi particolari, l'editore vede internet come un modo per vendere i libri e così via. E' abbastanza difficile in qualunque contesto giuridico avere una situazione così complessa soprattutto sotto il profilo delle prospettive dove è vero che devono esserci delle interazioni fra privato e pubblico. Sono fondamentali, lo dice peraltro ogni incontro internazionale che si è occupato di questi temi. Ma occorre una grande sensibilità, sensibilità da parte del privato sotto il profilo della attivazione di servizi che possono costituire un rischio per la collettività. Faccio un rapido esempio, quando si attiva per finalità commerciale un servizio prepagato bisogna anche prevedere che con quel servizio potrebbero essere commessi reati e guarda caso sono tutti reati che poi riguardano i consumatori, sono frodi. Qualche settimana fa negli Stati Uniti grazie a un simpatico servizio di questo genere unito anche a una procedura abbastanza disinvolta della predisposizione dei supporti di prelievo, in sostanza non si identificava l'utente ma si costituiva una personalità di fantasia per poi sostituirla al momento dell'attivazione con l'utente abilitato. Il risultato era avere una carta di credito che funzionava subito dopo l'uscita del negozio o una carta telefonica che funzionava immediatamente all'uscita dal nostro dealer. 45 milioni di euro. E allora mi domando se si poteva anche avviare una interlocuzione sulla sicurezza effettiva di un sistema del genere. Per quanto riguarda il lato istituzionale è ovvio che il rapporto con il privato va regolamentato secondo criteri di trasparenza ma anche secondo criteri di sensibilità e attenzione anche alle problematiche che riguardano il trattamento dei dati personali. Oggi queste tematiche che sono tematiche sulle quali il nostro Paese si è molto impegnato e all'avanguardia in fondo nell'Unione Europea è proprio la legge sulla privacy a definire le misure di sicurezza che però riguardano i dati personali. Ci sono archivi dove non ci sono dati personali e hanno fissato degli standard che sicuramente sono alla base del nuovo regolamento comunitario che si travede e che sarà applicato a tutte le banche dati. Devo dire però che vi è una certa reticenza nel definire l'illicità di un trattamento o una responsabilità per l'omessa adozione di misure di sicurezza nel nostro Paese. Su questo la cultura della privacy sta crescendo anche all'interno delle istituzioni. Probabilmente le modifiche che il regolamento europeo si appresta a introdurre e fra l'altro definire anche una responsabilità organizzativa e all'interno delle amministrazioni e all'interno delle imprese private in quest'ambito mi sembra un fatto importante anche per quello che poi sono i rapporti e le interlocuzioni riguardanti il contrasto alla criminalità informatica. Criminalità informatica che esiste e allora bisognerebbe riflettere e si sta tentando di farlo in chiave internazionale sulla definizione di alcuni valori che io definirei un po' di base che sono riconosciuti in tutti i paesi del mondo onde evitare proprio il rischio che il rappresentante di Google paventava cioè che in un sistema autoritario si utilizzino questi dati per contrastare gli oppositori politici. Ora si tratta di definire una lista di reati ed è quel lavoro che si è fatto con la convenzione sul cybercrime con particolare attenzione anche alla tutela delle frodi internazionali e definendo delle priorità che già in altre convenzioni mi riferisco in particolare al terrorismo già esistono. Il rischio maggiore è che una scarsissima sensibilità e questo lei emerge con un'evidenza palmare dai dati esposti da Google una non controllata accessibilità a queste informazioni e poi finisca per bloccare non solo Google ma anche le istituzioni italiane che poi sono seppellite da richieste inutili e comunque devono dedicare un minimo di tempo a ogni singola richiesta. Dal suo tempo il compianto procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna aveva individuato una sorta di filtro da parte della procura nazionale antimafia. Io credo che siano maturi i tempi per l'istituzione di una procura nazionale che affianchi la procura nazionale antimafia in materia di cybercrime e cyberterrorismo proprio per evitare fenomeni di questo genere. E su questo forse sarebbe opportuno riflettere perché più si ha un coordinamento di queste richieste informative anche attraverso l'adozione di standard innovativi immagino richieste anche online con firma certificata anziché attraverso il fax che ovviamente avrebbe anche qualche problemino di rispetto della privacy. Questo però richiede che l'organismo di coordinamento anziché la normativa sui sequestri per contrastare la criminalità informatica parta e parta al più presto. Ultima postilla per i parlamentari eventualmente presenti. Tra parentesi a costo zero. chiusa parentesi. Grazie Giuseppe Corassaniti.